sei nella sua nave. Ciao ragazzi, ovviamente in questo nuovo video oggi siamo su Warframe No, sono sul tutorial ancora Premi R1 e premix Che cazzo faccio? Ah, li prendo? Nuno Ah, li faccio del gioco Sì, ancora nel tutorial Ma che armi hai scelto? In che senso che armi? Agli armi No Ah, ok, perché mo ti farà scegliere le armi Perché sono anche le armi E certo, con cosa vuoi combattere con i... Boh, con i poteri No, si combatte con i fucili E poi le armi le puoi aggridare sempre di più Cioè, si può mettere come si taglia un po' il tipo le mod Cioè, queste cose qua Cioè, tipo, ci sono Tipo, puoi mettere quella della ricarica rapida Per farti capire Ah, ma serve l'energia per... 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 Per le abilità Per gli attacchi che ha Eccele E come... E come si rifà l'energia? Ah, ma... Tanno mostri Quindi adesso non posso più utilizzare abilità Per il resto della vita No, sì Ma adesso ti dirà Mi sembra scegli una arma Scana E come si usano queste armi? Con questo armi Ah, ma hai preso un'arma... Eh sì, è un'arma... Se è un'arma mili fa icono Questo invece... Il bast... Ah, io ho il bastone o il cazzo là La spada Sì Prendi la spada Perché Mag in attacco è già scarsa Almeno avere una spada è meglio Perché in attacco è scarsa? Eh, perché non è che ha poteri molto di attacco Cioè, può sollevare le creature Ma dove è il robot sessuale? No, me lo shopper Robot sessuale, basta Ah, c'è il doppio salto Sì Tutti ce l'hanno il doppio salto Eh, perché mi è uscito creazione del robot sessuale in corso L1 for... Oh, è a basso Sì, ma i robot sessuali Ma in un colpo li dici Sì, ma lo sai che il robot sessuale Oh, sai cosa mi ricorda sto gioco? Sì, ma lo sai Sì Sì Sai che questo gioco mi ricorda Arcade Garden Posso prendere Robot sessuali Ma fa fa culo di robot sessuale Perca madonna Eh sì, ma costa 90 Costa 90 credit Arma secondaria Inchioda silenziosamente carne e metallo con questi mortali cortali d'arancio Pfff Pfff Pocca 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 Perfetto Perfetto Pocca 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 Trovi in giro Cioè praticamente ammazzano i nostri Perfetto E' meno della furtività La pistola Di predile della pistola Adoro c'è una grafica Che al posto di sparare i proietti di spara una supposta Praticamente una supposta arancione e spara la pistola Senta se ti voglio questo robot sessuale Basta acquistare robot sessuali Grazie per l'acquisto del robot sessuale Oh fra Ma se io spammo Se io spammo la scivolata Più il salto e corra allo stesso tempo Vado straveloce Oh ma non Oh il mio robot sessuale Oh il robot sessuale minchioso Guarda mi spacco la madre C'è tipo Se inizio La bascata sul muro Ti voglio le scana Oh Posso scattare sul muro Dual Porco duro Ok Allora Cos'è staro? 27 crediti Oh si No Sono caduto Bullet Guarda nella direzione di serata Poi accovaccia ti scivola Oddio Ah Era quello che stavo facendo Accovaccia ti scivola E premi x Ah no ma non era di qua Oh dove cavolo devo andare Aspetta che mi sto potenziando il robot sessuale Hai scassato il cazzo con il robot sessuale Che mi sono potenziato Che ti sei potenziato il robot sessuale Sì Ma tu sei ancora in missione Sì Risveglio parte Quattro Spostamento base Puoi invitare Come ci si invita Ah no è vero perché solo dall'astronave può invitare porca di quella troia Di tua madre che fa le cose sporchissime Oh cavolo un'animazione Eccola la nave da destrazione Tutta l'inzio Oh cazzo è morta la nave da attrazione Sì ma Anton mi risponde Cioè starò facendo cose con il robot sessuale Eh vabbè Se l'hai comprato ci deve anche giocare Ok Il moche devo fare Sì ma il robot sessuale Ma tu hai scelto la spada Sì E che schifo Perchè 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 fa schifo Non è vero Fa schifo Dona sti quali affrontò la spada Dona ti rompo il marosco Ti stacco il malleolo Stacco il malleolo Il mio decrepito cuore sta battendo Dov'è? Dov'è? Dov'è il bastard Ah è morto E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero Compagno Shade Ok Componenti Perché Perché parlano russo Il mostro La stress Stacco dei cerecce Ok Dobbiamo fare molte missioni sulla terra Avete bisogno di materiali Perché mi devo craftare il robot sessuale Ma io sono veloce Io sono velocissimo in sto gioco Lui mi devo craftare il robot sessuale È vero non ho preso il cazzo Io mi devo craftare il robot sessuale Munizioni primaria Ah ce l'ho già al massimo Sì ma il robot sessuale Non me ne frega un cazzo del robot sessuale Mo te lo sesso tutto Oh ma noi abbiamo anche una vita Da dove si legge la vita Dal culo di Gesù Ma io non lo vedo il culo di Gesù Oh vuoi finire sto tutorial Un colpo caricato di quest'arco Ucciderà silenziosamente i nemici allertati Mai l'arco Apri il fuoco con questo versatile fucile automatico E infatti l'arco Mi sembrava strano l'arco Non ce l'ho io che sono il robot sessuale Eh però l'arco Però l'arco sciotta Tu carichi e sciotta Anzi io mi prendo l'arco A sto punto più bello E da me posso cambiare la mia Ah no non posso cambiare la pistola Con il fucilezzo sgravato Ti piace il robot sessuale? No mi fa cagare la minchia Ok è il momento di tirare fuori L'arco sessuale Ti muovi ti muovi Ti muovi oh rovi Ah io posso correre in giro Con l'arco caricato Ti ho detto di fare prima il tutorial Ma tu certamente Non mi ascolto prima Non mi ascolto mai Non mi ascolto mai E grazie che ti vuole ascoltare Tu No Ti muovi Robot sessuale Ok adesso vado Madonna aggressivo con la spada No non me ne frega più Un cazzone morto Ma che cosa ti dice di fare? Ma cosa ti dice di fare? Oh ma cosa ti dice di fare? Oh ma cosa ti dice di fare? Madonna ti rompo Non lo so devo arrivare a un punto Al punto giallo E' veloce Donna E' frega te E' frega te E' frega te Fregate di tutti Fregate di tutti Fregate di Xpin E' frega te Il Malleolo Madonna Oh si Il Malleolo Lo sai che non ti dà Xpin Il tutorial è nel materiale Non so E' allora che cazzo fai? E' un tutorial Vai al punto giallo E' non caccare la minchia Ah ma che cazzo devo fare? Usa Cipr Ne ho 0 Io dici Perché cazzo devo fare? Dove minchia ritrovi Cipr? Cioè io vado al Malleolo Aspetta Ma se tu premi option Cosa ti dice? Ti dice comunicazioni Eh? Se premi option Ti dice comunicazioni Si Eh vai comunicazioni Fai amici Ti esco io Si Mi puoi iniziare? No Cazzo Parla profilo Rimuovi Mostra profilo Preferito No e non fare niente Finisci sto tutorial A non caccare Il cazzo Eh ma come faccio a finirlo? Dove le trovo Gli stronti? Mamma mia Che cacamento Di cazzo Che sei No tu lo sei Ah sono caduto nel cacamento Fammi share play No Fammi share play No Fammi share play No E allora muoviti Dove hai trovato? La nato Che che so cosa devi trovare Mi hai detto Materiale Oh io sto qua In un C'è un cazzo dove dice Usa cipper Ma io il cipper Ne ho zero Quindi dove dovrei Trovarli questi cipper? Ma forse usa cipper C'era i tu C'è prova a fare quadrato Cerchio Andiamo a controllare Usa cipper Vai nel punto E usalo Non c'è gli ho i cipper E che ne sai? C'è scritto per zero Nero Senti Mi share three Sennò Ah spero Ho capito Eh ma ho capito Il coglione Non servono Lo cipone Bastavo che premevo x Eh ma no Ma non me lo dire È quello che ti sto dicendo La quarta No 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 A quel cazzo dici Tu hai detto Allora il cipper Madonna Forse ce l'avrai Premi qualche tasto Forse ce l'hai già Bastava premere x Che già Vere già Ce l'hai già Premi x E vai No Non ce l'avevo Ho dovuto su Carmelo I cipper Non servivano un cazzo Madonna Che laggata Che laggata che ti lancio Ho una tima Ma almeno l'orso Madonna mia che laggata Ma dov'è il robot sessuale? Quando è che lo affronterò? Dove affronterò il robot sessuale? E non c'è i robot E dai robot sessuale Lo voglio tutto il robot sessuale Allora Quando entri Dobbiamo fare una missione Anche se sarà troppo difficile Perché non è vero Ma che difficile Che li sto squartando I tizi qua Sì Il moti metto una missione Di grado S Voglio vedere Come Con le squarti Allora Shade Perché Io voglio classarmi Il robot sessuale Allora Per il robot sessuale Dobbiamo andare alla terra Poi alla terra Poi alla terra Alla terra Oh l'animazione della terra Poi mercurio Ci serve Se cazzo Il curio Ehi Dovevo andare in Europa Si trova in Rugelio Aspetta E poi io ci posso andare Scusami No Credo di sì Perché L'Europa è sulla terra Quindi Europa 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 Oh Sto sulla navicella Non c'è l'Europa C'ho l'Everest Ma l'Everest Ehi Ehi Neuro Oh Sono sulla navicella Che mi sta malmenando Il mammario Dobbiamo Dobbiamo Sbloccare Marte Dobbiamo fare una missione Per sbloccare Marte Perché sennò qua Si ho capito Ma io mi sto malmenando Il mammario Lo vuoi vedere Il robot sessuale Si lo voglio tutto Eccolo E allora Entra E sblocchiamo Il robot sessuale Che così tanto Sessuale Non è Ok No ma il robot sessuale C'ha due cosi lunghi Sei sull'astronave No io sono Anteprima traguardo Ma cosa stai vedendo In questo momento La tizia Sinistra Anteprima traguardo E tipo Cazze di iniziazione Prossimo Primo traguardo E poi Non so che altro Ci sia Che dovrei fare Tu di più Volevo io Ma se io non ho neanche provato il mio potere Io fino a mo' ho usato Excalibur Come non l'hai manco provato fino ad adesso No io ho usato Excalibur fino ad ora Che me Oh hai finito sto tutorial E non capisco che devo fare mo' Aspetta Ma Leo lo devo farmi Ma vedi tipo Aspetta Mi sa che ti devo invitare No aspetta Accetta 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 Fai la via Accetta Veloce Che vuoi? Fammi vedere In quadra Butto Malleolo Eh scusa Vai a destra Come vuol dire Premi X E' riscattato Premi I con il tasto Eh ok Ok sei nella navicella Ora non toccare niente Mi cerchi a spam Ok allora adesso Amici Ti è arrivato l'invito Ti prego di mi dici Vai entra E in che modo In che modo Ti è arrivato su notifiche Anche dalla play No Ah solo da qua Oh ci sono 9 eventi per fortnite Linkable 2022 Fai comunicazioni Eh credo Tipo posta Ah ok ok ho fatto Ho fatto Lo posso di dare Ti è invitato il cazzo Si è unita alla tua squadra Ok mo dovresti spawnare Quincy Fredo Mi ricordo un po' wood Però wood Nello spazio Un wood molto brutto No a me mi ricorda Arcade Gredon Perché la padriente uguale Stavano i nemici E ne pc E tu dovevi spararmi Sei nel gruppo Sei nel gruppo Sì 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 Sei nel gruppo Allora Adesso devo startare una missione Tecnicamente te la dovrebbe startare anche a te Facciamo Questa Questa missione va completata in giocatore singolo Cazzo E ora facciamo questo Di bello nemici 3 su 5 Ma come funziona la vita qua Sei entrato? Ti sta caricando? Sì Sì Guarda qua Che robot sessuali Ti vengo addosso Ti vengo addosso Oh sì robot sessuali Ti do una panciata Oh sì robot sessuali Ma è molto sessuale Devo aspettare Devo aspettare che carica a terra Madonna in 3 frame Fa la tona Guarda Guarda I robot sessuali Oh sì robot sessuali E quella è la terra È la terra Sì I robot sessuali E questa qua sarebbe la terra Sì Che schifo Che terra è Guarda io che posso fare Ma ma fa Che schifo No Aeta io posso fare questo Vieni 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 Aspetta com'è che si utilizzano le abilità? R1 Io posso fare Questo Che schifo No in realtà i nemici di shot Praticamente Cioè adesso a farlo Ma come si ricarica l'energia per le abilità? Ammazzando mostri E perché prima non mi ricaricavo un cazzo ammazzando mostri? Porca droi Ah ho capito io cosa faccio Fa schifo la mia vita Aspettate Posso provare un po' E si va di speedrun E si va di speedrun ragazzi Si va di spinner Sto ammazzando bambi No povero bambi Sono morto Ma porca la troia Ah ma buona Ma donna Vi pesto Voglio provare la vita di volte E dai da fermo fermo Ma io posso utilizzarla Ecco l'interno Ma che schifo No io non posso utilizzarla Ah si ti posso tirare Oh tu hai saltato Guarda quanto vado veloce io Guardami Mi rimetto Guarda guarda Mi rimetto a scali Mi rimetto a scali Perché faccio schifo Ma non tutti la stessa velocità qua C'è uno più lento No non tutti la stessa velocità Quindi anche io posso marmenarti Mi malleolo Madonna Oh sono caduto Aspetta che dobbiamo trasmettere i dati Che cazzo devi trasmettere i dati della scuola Cazzo Ah devi venire vai dall'altro Ah ma devo fare la configurazione dell'iPad Oh e vieni qua Come qua Hai detto vai dall'altro Eh da qua E che devo fare da qua Vorresti fare Oh Perché non va Vabbè io mi vado a studiare Ah richiede il datamass Ma che cazzo E dove sta il datamass Scusa Cioè Andrè fermo un attimo Vieni da me Vieni da me Vieni da me Vieni da me un attimo Aspetta aspetta Resta a questo computer Non vorrei che il datamass E quell'altro quadrato lì E grazie a me che ci stava andando io là Rimani a là Ma tu mi hai voluto succare il cazzo Rimani rimani al computer tu Io vado a prendere i tuoi Vado a prendere la scheda sim Di pari pugni Ma comunque Ma comunque non è vero Che il bastone è più veloce La mia spada è stra veloce Facciamo Stai zitto Anzi mi sa che il tuo bastone È quello che fa più cacare Sì ho preso il datamass No fra il mio bastone Fa dama d'aria Non avevi visto quello che faccio No E' molto Lo faccio rivedere Aspetta che ho preso il datamass Cosa continua Nessuno vuole vederti Mi è arrivato dal tizio Dalla tizia To No non è vero Però molto è forte Cioè spara dei funni Che sciottano Io invece Prendo Cioè io Prendo i tizi E li butto per te Rally shot Che ho preso il datamass Guarda io che faccio Ma sai che forse Mi sa che anch'io Lo faccio sto potere Perché Prima o prima Aspetta Salta il premier 3 R3 Salta il premier 3 Ah vedi anch'io lo faccio Ah Non sei l'unico Quindi posso shotarti Il malleolo Madonna L'abbiamo imposto Lo so so qua Madonna vi entro Il malleolo Sinistro Il ristro Il ristro Starbando il malleolatore Tutto nel vore Ma prendi questo Cioè guarda Quanto sono veloce Forse lo sai cosa fa il mio bassone Perché il mio vedi che posso girare Paro Paro i colpi Il cazzo si fa Ah Doh Fulminato Dall'annazzo Dall'annazzo Oh andrei ma sono io riesco a camminare così veloce Fra cazzo il datamas Ok 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 Sì Lo devo andare a portare Tu difendi l'area Anzi vieni con me vieni con me Perché se no qua mi massacra Oh ma che massacrare Qua il mio massacratore sono io Io devo portare questo perché se no non posso attaccare Ok Ora dobbiamo difendere Ora ci assalteranno Vabbè sarà Emo arrivano Emo arrivano Eccolo Sta arrivando il malleolatore Tutto nel vore Qui guarda che è anche un fucile Sì vabbè ma io mi trovo meglio con le armi Con le armi Da cazzo Madonna mi malleolo Ah Ma il fulmino è ad aria Ah Ho sbloccato Ho sbloccato l'abilità speed Ah Puoi fare high show speed Guarda guardami guardami Vedi che sono veloce Sì che ho visto Sei un malleolatore Guarda me lì sotto con la mia abilità Ho sbloccato anche Una nuova Un nuovo cazzo In culo Ma tutto Cioè vedi Lo vedi quello là in fondo Ma dietro Abbiamo finito Abbiamo finito Ora dobbiamo portare Oh natismo Il malleolo Il malleolo Oh 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 Dobbiamo portare il datapack Oh Andrei Zoglio nuovo Il mio nuovissimo potere Di high show speed Per correre alla velocità del cazzo Sai che sono più veloce io rispetto a te Pure tu con Che cazzo Di cibo No intendo io con il mio movimento Tattico Cioè guarda Ma ti raggiungo Allora Adora Ma se sono già arrivato io E grazie al cazzo Sei già partito Aspè che prima devo Ecco Eccomi No Cioè sono così veloce che perdo il controllo Sto arrivando Mamma mia siamo delle potenze No porco dio son caluto No non c'ho il camorca Madonna La faccia La madonna etrusca Cazzo Eh ma stanno spaccando il coso però Oh eres mi bebe Mi bebi so fu Oh e riesco a farla sa Oh ma sto coio PEM PEM Eres mi bebe No fra sto arrancando Proprio come se non ci fosse un domani Eh anch'io Mi dicevo aumento di grado Aumento di grado Abbiamo finito? Sì Abbiamo finito E si Utilizzo il mio potere Della velocità In modo da propellermi Alla velocità del cibo Ma se sono più veloce io Guarda E grazie alla minchia Sei partito prima No adesso ti aspetta E facciamo una gara di corsa Ok Aspetta che c'è un coglione qua Aspetta che c'è un altro coglione 3 2 1 Il culo No sono andato nel lago Ah sei respawnato qua Ma va fa culo Ah ho vinto la gara Dona guardami la missione E mi sono arrivato a livello 6 di volt Così Oh sì ho trovato il rubedo Che è quello che mi serve per il robot sessuale Quello che me lo posso ficcare nel sessuale No io me lo posso ficcare nel sessuale Capito No a me serve per il robot sessuale No io invece posso farci cosa con il robot sessuale Guarda qua siamo delle potenze Guarda Che schifo Entom Warframe Robo sessuale Ma adesso lo vedi che è a livello miliard e cinquecento miliard Ma ha scritto domani giochiamo Ma oggi dobbiamo giocare Domani giochiamo Poi arriva il domani Ragazzi ma ieri potevate giocare E me lo mando a fan Sì veloce fammi il malleo Che dopo O dopo devo andare su fortuna E vedere il nuovo aggiornamento Sì c'è quello di Halloween Allora adesso devo controllare Se posso craftare Il robot sessuale Perché Il robot sessuale Allora C'è allora C'è tutto Però Il rutto Cioè scusatemi Sì ma veloce Vai Non voglio mostrare qua Senti adesso mi rimetto l'excalibur Maxato a livello 67.000 No io Eta ma come ti cambia personaggio Non puoi Come no Ecco qua adesso ti esco l'excalibur Magma mia Magso Ti c'è l'emici Ma tu genera un vortice Ma netto Il vortice Atterra le schegge Polaris E' l'emici Facciamo la missione Gaia No anzi non questo Non te ne metto Non è impossibile Sterminio Sterminio Ok vai vai dobbiamo farmare La rare Sì ma il robot sessuale Guarda i robot Guarda i robot sessuali Sembri Sembri uno spermatozo Eta ma come fai ad andare sopra e giù Andranno sopra e giù Madonna in tre frame L'ho visto il robot sessuale Eeeh Guardami Guardami tutto il mio splendore Che merda quel pastore Eccomi Guardami con il corno Ma sei coq Ma io l'arco Però non ho messo come si Vieni seguimi 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 Madonna torca E da qui ragazzi Inizia la speedrun Porca merda Vientro nel malloro Vuoi vedere la mia abilità No Dove sei aspetta Te la voglio far vedere Che è una figata Però mi servono Un gruppo Un bel numeroso Di nemici Eccola dove Gli sciocchi tu Ma è entrata gente E' arrivato Il mister cazzo No ci rovina La nostra missione Di farming E' appunto Madonna Roma E anche oggi Si mangia Madonna Se vedo Un nemico Lo squa Ma sei caduto Anche tu Nell'acqua No No Da ma non mi chiuderle Porta in faccia Brutto Malleolatore Ma poi Non serva nulla A correre Cioè basta Che premi R1 E salto Basta che Spami R1 E salto E dici Cioè guardami Come ti malleola La mamma Eres mi bebe Eres mi babubu Caramelo de gioco Latte Il papa è mea Dove cazzo Dove cazzo Dove Dai Ma non stanno mostri Perché se li sta ammazzando Tutti quel Seb Hunting Tutti quel tizio Se li sta ammazzando I mostri Eh ma abbiamo Fini E non ha ammazzato Un cazzo Perché stava Perché se Banting Mi stilava Tutti Oh luta Luta Crediti Credito Dove venire Qua Oh si Possibile che ci mettiamo 3 secondi e mezzo Per completare la missione Con A Solo Car Cu Mur Santiago ковa Qua 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 Grazie a tutti